Archiviata la pratica a Chievo, si pensa da domattina al Barcellona. Le condizioni di Mandzukic e Pjanic? Mandzukic ieri ha lavorato un po', oggi ha lavorato molto bene, domani dovrebbe essere con la squadra, dovrebbe, vediamo. Pjanic sta bene, ha recuperato da, diciamo, più che affaticamente un po' di stanchezza, quindi sono tutte a disposizione. Anche il Barcellona ha fatto 2-0, però ha perso e ha sprecato un'opportunità di avvicinarsi al Real in corsa a Scudetto. Può significare qualcosa? Ad esempio Lichten ci ha detto che la Juve mentalmente sta molto bene, perché ha vinto, ha passato il turno in Coppa. Il quarto di finale contro il Barcellona è una partita a sé, il Barcellona è una squadra che è abituata a giocare queste partite, noi siamo in un buon momento in condizione psicofisica e bisogna affrontarlo con grande energia positiva. Lichten si è pronta per andare finalmente alla velocità massima, 100 all'ora, insomma è il momento finalmente più importante dell'anno questo? Il momento più importante? L'importante è arrivarci a giocarci tutte le cose, poi intanto siamo al 2 giugno e arriveremo sicuramente. Se siamo bravi posticiperemo di un giorno la fine dell'annata, però abbiamo il campionato, il campionato non è finito, stasera era importante vincere, non era semplice dopo due trasferte come quelle di Napoli e ragazzi sono stati molto bravi. A posto, Sierat. Atenzione.